Sentivo questo forte bisogno di dover mettere insieme due cose, quella che è la mia italianità, il mio sentirmi italiana, con quella che è la mia decisione di portare il velo. Noi ci limitiamo a dire eh però nel medioevo l'Islam era un'epoca d'oro. Questo non interessa nessuno perché la preoccupazione di oggi è se i musulmani possono vivere qui, se i musulmani sono in grado di pensare in una maniera compatibile a noi o se i musulmani sono una forza distruttiva. Mi sono resa conto di quanto la classe dirigente, la classe politica in Italia non capisse fino in fondo che cosa volesse dire non riconoscere la cittadinanza italiana dei figli e figlie di migranti che sono nati e cresciuti di fatto qua in Italia.